Ciao a tutti, io sono Roxy e questo è un altro What a Eat In A Day, cosa mangio in un giorno. Ormai lo sapete, io inizio sempre la mia giornata con un bel bicchiere d'acqua e poi passo alla colazione. Questa volta per colazione ho tagliato tre banane e poi ho aggiunto delle fragole, dei datteri e del cocco ed era buonissimo e adoro fare colazione con la frutta in estate. Dopo un paio d'ore ho mangiato anche due grappoli d'uva e poi per pranzo non mi andava di cucinare, quindi ho mangiato delle verdure crude con un po' di hummus, che è questa crema fatta di ceci che è veramente buonissima. Ho mangiato un po' di broccoli, piselli, sedano e carote. Veramente buonissimo e rinfrescante. Nel pomeriggio poi ho mangiato due arance e un'oretta prima di cenare sono andata a correre e vi voglio far vedere questi nuovi leggings che ho ricevuto in regalo perché sono veramente troppo carini, hanno gli unicorni e sono comodissimi per correre, me ne sono innamorata. Vi lascio tutte le info nella descrizione e ultimamente quello che faccio è correre fino alla palestra di Pokémon GO più vicina e poi cerco di conquistare la palestra e questa volta che ho portato la telecamera con me ci sono riuscita. Mi avete portato fortuna, anche se sono stata il leader per un minuto e mezzo, ma non fa niente. Dopodichè corro a casa e per cena questa volta ho preparato degli spaghetti di zucchine con pesto di avocado. Ne ho messo in un frullatore un avocado, pinoli, aglio, succo di limone, poi ho frullato il tutto e poi ho fatto i miei spaghetti di zucchine con il mio spiralizzatore che adoro. Ho utilizzato due zucchine grandi e poi ho aggiunto patate, pachino, il mio pesto, ho mischiato il tutto e voilà. Era veramente buonissimo, cremosissimo, super super delizioso. E tutto qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Se ricreate una di queste ricette non vi dimenticate di taggarmi nelle vostre foto. Come sempre saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet, qui vi lascio altri due video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!